E' partito oggi a Montesilvano il nuovo servizio di controllo della riviera e della spiaggia da parte degli agenti della Polizia Municipale. Questa mattina il sindaco della città adriatica Ottavio De Martini e il comandante della Polizia Locale Nicolino Casale hanno illustrato l'iniziativa fortemente voluta dall'amministrazione comunale che a breve assumerà anche 12 nuovi agenti. Noi abbiamo programmato l'assunzione di 12 vigili che purtroppo è stata ritardata dalla seduta di bilancio che a causa di problemi politico-amministrativi si è protratta e solo la prossima settimana verrà approvato. Subito dopo si partirà con tutte le procedure volte e rassunzioni ma credo che si arrivi alla fine dell'estate. Detto questo però devo fare un ringraziamento all'organico della Polizia Locale che nonostante sotto organico ha comunque e sta assicurando tutto quello che serve ai cittadini e ai turisti che peraltro si stanno comportando in maniera responsabile e quindi non stanno creando problemi come in altre zone. È un servizio fortemente voluto sia dal comando che dall'amministrazione e nonostante la carenza d'organico siamo riusciti ad organizzarlo. Cosa si prefigge questo servizio? Innanzitutto si prefigge di combattere il commercio abusivo sulla battigia sia di cose non autorizzate che di cose taroccate, ossia marchi fasulli. Oltre a questi servizi verranno svolti servizi di controllo di assembramenti vari, controllo di eventualmente giochi vietati sulla spiaggia e tutto ciò che può dare sicurezza ai villeggianti, ai bagnanti che stanno sulla nostra spiaggia. Nasce questo servizio perché c'era l'esigenza di controllo della spiaggia e come si poteva controllare un tratto di spiaggia così ampio? Certamente non a piedi perché a piedi una pattuglia può fare soltanto un passaggio. In questo modo la pattuglia farà 5-6 passaggi sulla spiaggia e quindi la presenza dello Stato e della Polizia sarà molto molto più pregnante.